Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, incontrerà domani la direzione generale dell'ASR Napoli 1 per affrontare le questioni relative al futuro dell'ospedale San Gennaro di Napoli. Struttura quest'ultima, che come più volte chiarito per tutti gli ospedali della città di Napoli, ha spiegato il governatore, non sarà chiusa. De Luca lo ha chiarito in risposta alla protesta che da giorni animano i cittadini di Rione Sanità. Questa notte hanno addirittura presidato il nosocom per chiedere di non far chiudere il pronto soccorso. La cittadinanza non si arrenda e che le cose procedano come devono procedere, perché se no, se la cittadinanza non interviene rimarremo sempre poveri e soli, perché nessuno ci ascolterà. Speriamo che De Luca si faccia un esame di coscienza e ci dia un tavolo per discutere un po' di questa situazione che è molto grave, ma molto grave. L'occupazione dell'ospedale a carattere simbolico, ma al tempo stesso sostanziale, nella misura in cui è inaccettabile che l'ospedale di questo quartiere, uno dei quartieri più popolosi della città, venga chiuso in ordine al decreto 49, che ridefinisce fondamentalmente l'assetto del piano ospedaliero regionale. Non deve chiudere nell'ospedale e poi si deve riaprire il pronto soccorso, perché noi moriamo per andare a Pellegrini e al cardarello. Moriamo, non c'è niente, 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 non c'è niente. Non facendo assunzioni, io sono un infermiere, sono un disoccupato, ho 33 anni, loro invece di fare assunzioni, che cosa fanno? Hanno fatto sì che man mano che le persone andassero in pensione accorpassero i reparti, quindi piano piano si sono chiusi, man mano hanno portato ad una morte lenta, fino a quando ci sono intere aree dell'ospedale che sono chiuse e noi abbiamo occupato una di queste aree. Ci organizzeremo anche per provare a rigarantire il servizio dal basso, medici, infermieri, cittadinanza che è stata molto solidale, ieri sera fino alle due di notte a portare caffè, mangiare, coperte e tutto.